Questo di cui io voglio guardare, nelle slide che ora vi mostro, è questa diciamo piccola un manager e leader che non è rappresentato da nessuna parte qui come il management importante delle aziende dopo che sono state create o un assieme, il momento in cui vengono creati è un'assieme gestiva. Quali sono le differenze tra queste due figure? Quali sono i punti in cui fondamentare l'apporto di un leader e quali sono i punti in cui fondamentare l'apporto di un manager? Proviamo da un'altra differenzione che possiamo avere tanti approcci. Il manager è quello che viene conferito ad un'autorità, ad un'autorità superiore, quindi tra parte di una struttura, tra parte di una gerarchia e ogni volta il ruolo di manager di questa specifica funzione. Il manager utilizza questa autorità per organizzare il lavoro, di un'autorità 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 per l'influenza per il leader. Il leader, molto spesso agli organizzazioni, rimane anche il diritto che sia aperto, se uno pensa al leader che si fa un'autorità per organizzare il lavoro, in tantissime organizzazioni, il leader non avendo un'autorità per costituire, può essere anche un'autorità per il lavoro, quindi ci sono leader informali e i manager esperti sono un'autorità per riconoscere all'interno dell'economia, perché direttamente faccio adesso a tutti. Se io sono il manager, tu dimmi 10 persone, capisco che c'è un leader informale all'interno di questo team che è in grado di influenzare gli altri, perché è dinamico, che è creativo, perché è in grado di ispirare la fiducia a tutti gli altri, che è in grado di ispirare la fiducia a tutti gli altri, quindi il fatto di dire se sono un manager non è neanche scontato, ma più volte ci possono essere situazioni diversi. Quello che vi voglio scontore, suggerire di pensare che tutte le figure non sono che che si fate come immaginiamo, ci sono manager che devono avere, poter dirci per portare il lavoro, che ci sono leader e effettivamente dare corso alla propria tendenza, devono avere un minimo di amministrazione, un minimo di amministrazione. Nel momento in cui io ho tutte e due le caratteristiche, che ho la stessa persona, che ho le team, eccetera, immaginando una monopola, tipo quelle ex, giusto, come quali sono i passi degli altri. Le due componenti ci rendono importanti momenti diversi. Ora, abbiamo detto non in più, una persona sola può essere anche il team. In ogni caso ci sono queste due componenti all'interno della mia antenna. Qual è quello più bisogno di dirci e quando è il più bisogno di una natura? Abbastanza intuitivo, che abbiamo detto che nella fase iniziale, comunque tutto da scrivere, tutto da capire, la direzione è incerta, bisogna prendere le decisioni sulla base di informazioni razziali, bisogna prendersi dei rischi. La nuova qua è il caso di dirci, diciamo. Non c'è ancora quasi nulla della realtà, perché quello che è il cuore della dirci. Quando noi andiamo avanti e gli attività non ci hanno diventato più concreto, non ci hanno diventato più concreto, non ci hanno bisogno di sapere, eccetera, bisogna regolare la nuova fase umana. Non è detto che nell'arco di una vita, nell'arco della vita dell'azienda succeda tanto questo, perché all'inizio ci trovavamo una situazione di cambiamento, quindi questa è una linea in cima, poi ci saranno altri siti di immagini, ma non la trovate che nell'arco della vita dell'azienda bisogna tornare indietro, perché abbiamo cambiato, perché le decisioni che avevano uscite all'inizio non sono più adeguate. Se voi pensate alla storia di Apple, è successo proprio così, è nato lo Steve Jobs, quindi si è poi spostati, pure l'uscita di Steve Jobs, verso un'ambito di immagine, la Chiesa sarà un po' liberale, perché non è cambiato, è una Steve Jobs, è una nuova, perché è una tutta sul leadership e il corso della dirci è cambiato. Quindi quando i mercati sono stati, o ho una situazione di immaginità aziendale, io non sono il manager, perché il manager mi permette di fare i costi, di fare cose in modo efficiente, per avere le risorse, e tutto quello che prende più efficacia di business in generale. Quando invece, io ho forte cambiamento del mercato, come la tenda, la bisogna ridurre, il manager non lavora bene, in un contesto di forte cambiamento, finalmente ora questo mi può astimizzare, però, di fronte ad un cambiamento rapido del mercato, serve una persona che sapeva gli servizi, che sape intuire, sape soprattutto coinvolgere le persone senza una mobilità recostituita, perché se io ho, di fronte ad una persona che non ha una mobilità formale, nei confronti del mio lavoro, per seguire la voglia, devo avere una fiducia, devo leggere la visione che ne vengo dunque. Questo grafico è molto interessante, proprio per capire questo aspetto dei termini numerici. Questo è un andamento del valore delle elezioni dalla prima Rio in maggio, nel 1996. Ovviamente all'inizio c'era il Piesco, il siero dell'azienda che mi è stato delegato. Il termina rossa cade proprio in un periodo abbastanza caldo nell'ambito economico, in quegli anni c'è stata l'ottobaboli, quindi tutta la fredesia degli investimenti nell'ambito economico, di due comi, ha mostrato i limiti in un approccio un po' troppo entusiasta, e quindi ci sono stati fatti di me, i carri dati di me, gli investimenti ancora non sono mai entrati, e quindi il sapore è semplice. Gli anni successivi hanno messo un po' una rimodulazione, qualcuno dice che oggi ci troviamo in due seconda bolla. Comunque faccio stare che da questo momento in poi il mercato era assolutamente in difficoltà. non ci dimenticiamo poi che poi l'imodinale ha iniziato una cosa di trasta, in un'ottima di Microsoft che aveva una questione Netscape, in un rapporto finale. Cosa invece sta? Nel momento in cui l'azienda nasce, l'azienda è fatta anche prima, diciamo, ipotizziamo come istante zero nel momento dell'elaborazione di tutti, da lì invece gli investimenti che ha permesso al valore delle azioni di andare su una direzione assolutamente di crescita ultima. E come è successo a prendere dei rischi, invece le hanno strategie tra l'altro anche aggressive, e questo lo fa bene, questo lo fa una persona che capisce e riempisce le esigenze di mercato. Nel momento in cui il mercato è diventato assolutamente più complesso, più distretto, stabilizzato e scambiante in qualche modo, non era più il momento di prendersi dei rischi, e quindi il manager, la gestione è passata per un manager, il quale ha fatto il lavoro che è previsto da un manager. Ci sono delle situazioni difficili, non è più il momento di prendersi dei rischi, è il momento di avere la massima efficienza possibile, la massima valentina dei costi, e tutto quello che serve per tenere un'azienda a casa, mentre decine gli altri fondivano molto più bene. Quindi il manager risolvere più complessi, verificare e controllare il baggio, controllare lo staff, controllare le esecuzioni di tasche e controllazioni efficaci. Se uno vuole ricordarsi, ma praticamente, con una prova sola, pensate all'efficacia. Il leader non è certamente efficace, il leader utilizza anche le proprie parole per scrivere un concetto, il leader è quello che riconosce il cambiamento, porta un'azienda verso il cambiamento, porta un'azienda, o una persona, o un gruppo di persone. Poi il leader è un concetto, ora noi lo sappiamo sull'azienda, è un concetto tutto sommarmale. distribuire le persone è quello che genera e trasferisce la voce. È abbastanza comune trovare questa citazione che, non ricordo sicuramente la voce, immagere quello che fa le cose nel modo giusto e dividere quello che fa le cose giuste. Ora, capire quali sia la cosa più importante è difficile, dipende dal momento in cui ci troviamo, nel primo mercato dell'azienda, però è indubbio che sono importanti entrambe le cose, per cui tutte queste caratteristiche che abbiamo detto coprono una parte dell'imprenditore, quindi noi dobbiamo, il messaggio che si tratta di trasferire, che dobbiamo strutturare meglio la nostra visione dell'imprenditore e arricchire la visione che è utile, perché se avete l'energia che ci vuole, e ovviamente l'energia che ci sta all'imprenditore, arricchire tutta una serie di caratteristiche che non abbiamo scritto e che ci serviranno. perché dovremmo stabilire le listiche che servono per raggiungere i capitani, dovremmo gestire lo staff, dovremmo delegare le responsabilità. Io sono, per esempio, sicuramente qualcuno, se io sono determinato, se io sono inconsciente, se io sono sempre giudicato, se io sono inconsciente sì, avrò difficoltà a delegare, mentre invece delegare le importanti parti del business è una cosa fondamentale della crescita, perché se io ho un cento numero, per esempio, un regolo molto pronunciato, questo regolo non è stato detto, ma uno dei artisti del senatore è lei, devo imparare a gestire il mio narcisismo, devo capire che sono nella posizione dove delegare una parte, non le parti del business che fa la cresce, non posso gestire la sua parte. Anche i compiti, sicuramente non sono rappresentanti qui, monitorare i risultati, quindi non ha tempo, visto che deve fare queste cose, per monitorare i risultati, quindi deve essere qualcuno che lo fa per lui, oppure deve essere lui già attento, evidentemente per capire che ci sarà un gioco di stigione, se lo facciamo lui stesso, se lo farà da solo, ovviamente dovrà delegare l'ultima volta. cosa succede con l'ultima, questa è un po' una cartina, vedete la prima cartina, ma solo deve capire sempre di troppo, un malo geno leader, immaginiamo un malo geno leader in una situazione assolutamente diretta, di forte stress, in cui la reazione è, come posso dire, negativa da parte della persona, perché non è in grado di gestire il carico di stress. come si comporta il manager che in questa situazione di stress viene da un cattivo malo? Chiaramente diventa un broker che si risiedisce, quindi se avete in fronte un broker, un autostress, o semplicemente quella è una persona che in altri momenti della sua vita, o in altre situazioni, era o potrebbe diventare un giorno un buon manager, se si esce dal processo di stress, e dalla parte di essere un manager. Cosa fa? Usare le regole? Come si comporta le persone? Di fronte a voi che dicono no, questo non si può fare perché ci occupisce la tale regola. Allora, preso di mettere di fronte è una persona che un giorno potete, a cui potete dare un compito da maggio. In leader invece quando diventa, si trova in situazioni di forte stress, diventa cattivo e intelligentissimo, uno per nulla, ci sono, c'è un libro, in cui Steve Jobs viene ripinto molto spesso come discotico, e infatti, non per nulla, Steve Jobs diventa un leader. Perché il leader è una forte intelligenza funzionale della generazione della generazione delle persone. Siamo tutti contenti, ma credo che ho questa coscienza di filosofia delle persone. In modo, ho un potere un valore con tutte le persone, uno che parla della definizione della realtà, il leader è quello che non piace parlare con le persone, trasferire una visione alterata della realtà e si convince di che bisogna la visione di un'inizio. Non perché sia raccoginante ovviamente, ma perché la persona che non vedrebbe, non vedrebbe quello che il leader invece vede, per cui il leader deve cambiare, perché la persona può conoscere qualcosa di difficile da fare.